Ciao Utubers, questo è Utab, grazie per ottenere il mio video! Aiutami a crescere per supportarmi sul Patreon, dove puoi downloadare questo tab e scoprire il prossimo! Ricordate di cliccare su Subscribe sul mio canale e fare tutte le altre cose che i youtubers chiedono! Ciao! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!